Musica Bella ragazzi, ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Allora, mi sono appena svegliato, sono un po' stanco Però volevo aggiungere alla mia serie un altro gioco Che si chiama Spartacus Legends Ed è un gioco arcade della Ubisoft Che hanno da poco, cioè da poco L'hanno rilasciato se non sbaglio da una o due settimane Ed è un picchia duro È molto semplice come movimenti eccetera Perché se non ricordo male Cioè per attaccare bisogna usare X, A e Y E basta, proprio se non ricordo male ragazzi E poi al massimo bisogna difendersi con lo scudo Comunque sia, ve lo faccio vedere perché Diciamo ora, per cambiare poco a poco Un pochettino dai soliti generi come può essere Call of Duty Forse Horizon Butterfield I miei soliti sparatutto E avviciniamo un pochettino al picchiaduro Anche se non è il tipico picchiaduro come può essere Street Fighter O Tekken Quindi niente ragazzi Vediamo un pochettino come giocare Quindi andiamo su modalità leggende Ok No, no, no Lasciamo così Allora Io sono andato un pochettino avanti Se vedete Quindi Si può giocare online Se non sbaglio Allora Questa è la modalità Scusate La prima No Si Questa è la prima Con una letalità 1 Letalità 2 Letalità 3 Qui sarà letalità 4 C'è letalità 4 Letalità 5 E poi qui sarà il massimo Comunque sia Io porto qui Qui si dai Allora E ci sono sempre gli incontri ragazzi I incontri Xbox Live Vedete Sono quelli online Aspetta un attimo Scusate per il buio ragazzi Ma sono Cioè ho gli occhi un po' Tramortiti Tramortiti da ieri Quindi Allora Non fate mai Allora Un consiglio Non fate mai incontri online Perché Se fate incontri online Non siete ben preparati Fisicamente Intendo Con un'armatura Un'ultima spada Un'ultimo scudo Vi spaccano il culo ragazzi Io l'ho fatto Ho fatto la cazzata Mi hanno ucciso subito Con una spada Cioè Ah va Una super spada Il tipo Un super scudo Mi ha ucciso proprio il tipo Cioè mi ha ucciso il mio guerriero Quindi O siete ben armati O non giocate proprio Giocate sempre Per migliorare La vostra armatura Eccetera Comunque sia Sta musichetta Veramente M'è sorda Allora Andiamo su Questo qua è fortissimo ragazzi L'ho già sfidato una volta E veramente Mi spacca il culo Alleniamoci un pochino Dai Questo è il mio guerriero Anzi Questi sono i miei due guerrieri Ragazzi Questo è Il guerriero è normale E questo è con doppia spada Io uso questo di solito Allora Andiamoci un pochino raga Ok andiamo No Vi faccio vedere un pochettino Come è Se vi piace Prendete la volontà gratis Se non ricordo male Vi faccio vedere un pochino Di combattimenti Grafica Non è Non è Non è il massimo Però La possiamo partire Da un arcade Andiamo Ah ok Aia Mamma Grandissimo Molto freddo Ragazzi con me Il gioco È molto veloce Divertente per questo Cazzo Dai Mamma 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 Tanti Tanti privilegi Di essere ancora più armato Grandissimo E questo è una ragazzi Questo vi faccio vedere Molto semplice Molto Cioè è una cazzata A buttarlo giù Questo tipo Però Adesso vi farò vedere Qualcuno Che è magari più difficile Dove dovete impegnarvi di più Dove potrei perdere Comunque sia Il gioco funge così Cioè dovete combattere Adesso io ragazzi Non l'ho neanche ammazzato Però per dirvi Potete anche ammazzarlo Il vostro avversario Tipo una volta Vi ho tagliato la testa Infatti c'è l'uccisione Uno Quello L'ho proprio ammazzato A me è successo online Mi hanno ammazzato il giocatore Mi hanno rianimato gratis Non so perché Però Se giocate online Se giocate molto online E vi ammazzano il giocatore online Ce lo perdete E se non avete 500 monete di argento Per rianimarlo Per farlo resuscitare Non l'avete più Quindi Vi consiglio sempre Di avere 500 Per poterlo recuperare dagli inferi E continuare con lui Magari se vi piace Come gladiatore Comunque sia Questa è un pochettino di roba Che ho ottenuto Mi ha fatto in partita Comunque l'Ubisoft L'Ubisoft ha fatto un bel gioco Molto semplice E divertente Perché Non dovete rincoglionirvi Per fare mosse strane Con analogici e tasti A me piace Non sono un amante di picchiature Però questo Mi ha divertito E sinceramente Spero vi possa piacere anche a voi Quindi Adesso Proviamo a sfidare La leggenda Questo qua Il capo dei capi Allora Andiamo su Questo coglione Allora 724 E Facciamo così Allora Io mi metto qui Così Ok Così posso sentirvi Ok Perfetto Allora Elmo Mi piace Stare il metto Ragazzi No a me piace Non è malvagio Non è malvagio Più Quanto fa Dai proviamo Va Andiamo per cambiare Un pochino Ragazzi Allora Eh dai Mi sta di merda Però Da Non possiamo farci niente Partiamo subito Dai Dai Guardate quanto è forte Questo tipo Ragazzi Questo qua è una bestia Oi namu Oi no mouse Vedete Questa cosa Questa cosa Non mi piace Cioè Cioè Lui è fortissimo Guardate Ma vedete Che l'hai parato Eh Mi dà un colpo Mi stende Dai Ma l'hai parato Tutta Questa è la cazzata Guardate ragazzi Questa è la puttana Cioè Lui è fortissimo Con fronte a me Guardate Guarda Ma che cazzo Guarda Ma quanto mi ha tolto 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 Cioè Oh Oh Ragazzi Ma lo avete la cazzata Cioè Che cazzo di spada Minca Ho raccolato Che cazzo ho messo Ma spara proiettili La tua spada Io non ho capito Questo È impossibile ragazzi Cioè Questo qua è veramente Imbattibile Quindi O mi potenzio molto L'armatura E la spada O altrimenti Mi spaccherà Sempre il culo E niente ragazzi Spero che Questo filo Vi sia piaciuto 20 io parlo Vedete Lui Minca 192 di danni Che cazzo sei Una bestia Vabbè Allora Io mi prendo un po' di punti E ovviamente Vi faccio vedere un pochettino Cioè Mi potenzio un attimo Allora Non potete andare in palestra Per potenziarvi Giusto Spero che il video Vi sia piaciuto Spero che il gioco Vi sia piaciuto Allora Quindi Che dire La cura è 93 Tutto Non fa Vaffanculo La cura è 93 Tutto Spero che il gioco Vi sia piaciuto Prendetelo Se ovviamente Vi piacciono i picchiaduro E non volete Rincoglionirvi Come Street Fighter E Tekken Qualsiasi Tekken Perché Veramente Raga Erano belli I picchiaduro Però Complicarmi la vita Per fare una cazzo Di mosso Una combo allucinante Mi ha fatto un po' Perdere la voglia Di giocare a quei picchiaduro Commentate Iscrivetevi Mettete un mi piace Se avete apprezzato il video La cura è 93 Tutto Ci vediamo alla prossima Ciao raga